Ma lo voglio dire in conclusione con tutta la forza che ho, passiamo il testimone di un partito e di una coalizione fatta di gente per bene. Noi non accettiamo che in questo momento, non accetteremo mai che in questo momento tutta la sporcizia che è arrivata e che arriva in uno scandalo per noi inaccettabile per il quale noi abbiamo chiesto la commissione d'inchiesta a Bruxelles, ci costituiremo parte lese e abbiamo chiesto in modo assolutamente inflessibile che tutti coloro che si sono resi responsabili di quelle porcherie paghino il loro conto. L'Europa per noi non è quella roba lì, l'Europa per noi, fatemelo dire, a qualche giorno da quell'11 gennaio in cui saremo tutti, tutti insieme, nella memoria di Davide Sassoli, nel primo anniversario della sua scomparsa, per noi l'Europa è l'Europa degli ideali di Davide Sassoli, non l'Europa di quegli scandali, di quelle porcherie che rigettiamo con tutta la nostra forza.